Lentini misure anti-covid, polizia controlla 60 persone, 6 sanzionate. Proseguono i controlli finalizzati al contenimento sanitario volte a contrastare l'innalzamento della curva epidemiologica in città e in provincia, svolti in forma congiunta con le altre forze di polizia che ieri sono concentrate nel territorio di Lentini. In tali territori sono state controllate 60 persone, 6 delle quali sanzionate per non aver rispettato la vigente normativa. Predatori del loro giallo nelle contratti di Avola la sera del 23 gennaio. Durante un controllo del territorio gli agenti del commissariato di Avola hanno sorpreso in un agrumeto incontrato a Zuccara, un uomo che era intento a raccogliere dei limoni. Lo stesso, vistosi scoperto, fuggiva abbandonando l'autovettura con all'interno 700 kg di limoni. Le indagini svolte nella immediatezza permettevano di risalire al responsabile del furto identificato per una volese di 44 anni che è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato.